Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video, io sono Ali e oggi siamo qua per mostrarvi tutte le skin che ho su StumbleGuys Allora, andiamo sul personalizzare e vediamo tutte le skin che ho Allora ho ovviamente, non può mancare, Mr. Stumble che è normale Poi ho questa qua femmina che ovviamente non la uso E' Mrs. Stumble, poi c'ho questo qua che è tipo il pompiere, questo qua è tipo l'inferniera Questo è tipo il contadino Questo è Stumble James, era la prima skin mia preferita Poi questo qua è un altro, tipo il fratello Stumble Jack Quindi questo qua Giulia Poi questo qua è molto carina E' anche normale però secondo me doveva essere almeno rara Che tipo, cioè quello elegante Un altro contadino però in versione diversa Il cuoco, il ladro, tipo un calciatore Facciamo che si chiama Cristiano Ronaldo Fabio, Mr. Fabio Questo qua Poi c'è un altro poliziotto Un pirata Questo qua non so come si chiama Un mimo Questo qua che va tipo a scavalcare la montagna Un altro ladro Questo qua non so, tipo football Un'ape Che carina E' questa qua Tipo una gina E' questo qua E' questo qua Non so come si chiama Questo è così tipo giapponese Un pollo Mangiatemi Un alieno E' più brutto E' di uno stecchino Poi Ehm Un pinguino C'è qualcosa tipo Ricordate tipo qualcosa di Pokémon Tipo queste cose Qualche cose giapponesi Questo qua Faccio paura Benvenuti a Halloween Poi ho Il megalodonte Tipo carino Baby Shapture Ecco lo che ho Ho questa E poi c'ho Bear Seeker Allora Adesso Staremo un pochetto A giocare Insieme Con alcune partitine Volevo fare vedere Solo le mie skin Prima avevo Tanta gemme Però Mi avevo speso Per prendere Una nuova Una nuova skin C'è Ho trovato Quella lì Del football Ecco Doveva partire bene Invece no Lo è partito già bene Perché Staremo a me Non piace proprio Lo piace A me no Allora A me non è che Perché non mi piace Non bello Però Però quello La odio Se le menti Cioè Avete visto Che mi nascono Di più soldi Pesino Mi sa che mi ho detto Dicina una volta Mi l'ho detto Dicina una volta Scusate ma Madonna Oggi non c'è la Perché Purtroppo Sono brutto Stanno con L'errore di non starla Live L'ho eliminata Pochi giorni fa E Non è andata Per un altro Giorno ma È possibile È possibile Oggi non c'è la Oggi non c'è la L'ho eliminata Non è possibile Allora intanto Già sono Cioè Sfortunato Già iniziamo bene Guarda Oddio che cosa è successo Non funziona più Questo Scusate dopo Un po' Quei secondi Ho iniziato E ho collegato tutto Perché Stumbleguiser È sempre così Se mi sentite Tipo Tutto Tutto E poi Perché C'era Pena Allora C'è il suo Reflip Quindi vi ho detto Che era un po' Che tosto Un vecchio Quindi ho voluto Fare la live Però Ve l'ho aspettata Questa settimana Sabato A che ora? A che ora? Adesso 12 e 45 Non lo so Bene 12 e 45 Mi sembra Sì 12 e 45 Mi è andata bene Oddio Stavo per cadere Allora dai Valerio Non perdere Per cadere Ecco Così La Ma Ecco Stico Tico Valerio Andate Tu Please Allora Tipo Più No No Tipo Ragazzi Ragazzi Qui si gira Invece Lui Dice di andare Ma dai No Sì Guarda Non ci posso credere Sì Madonna Qualificato proprio All'ultimo Adesso C'è Interessa Poco Adesso Comunque Al riguardo Di Adopt Me Vi dico Che Insomma A Block Scusate Che Praticamente Stanno scendendo Troppi aggiornamenti Epici Questo mese Sono usciti Sono usciti Che Quando C'è Quasi Il 30 Mio Il 30 Mio Quindi Ho finito Quasi Il mese Stanno In Agosto Non voglio Andare A scuola Allora O volete Andare A scuola No No Ver Dai Veramente Io adoro La scuola Quindi Tre Eliminati Quindi Non posso Adoptare La scuola Che Non mi piace La scuola Non mi piace La scuola Come Allora Valeria Adesso Mi state salvando Per favore Mi stanno salvando Mi stanno salvando Mi stanno eliminati Ma come Mi stanno salvando Mi stanno salvando Guardate Oddio Siete qui Valeria Si Qualificata La prima volta Che vengo qualificata In questo livello Cioè Raga Io però Voglio fare Only drop Perché non l'ho fatto più Ed è Adesso Mi stia Un po' Che piacere Verso C'erano Tutte le caselle Quindi per favore Esci Esci Per favore Aditi troppo Si Ho uscito Che bello Ho uscito Grazie Che bello Oh madonna Madonna Devo andare In tutti i livelli Oddio Madonna Madonna Mi sto cadendo A volte Dove partiti Madonna 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 Vai Veloce 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 Che cavolo Mi state bloccando tutti No ma dai Non è possibile No Ma che cavolo Sono Illuminato Allora Allora Raga Facciamo Tutte due Partiti Comunque Vieno Cioè Comunque A parte Questo qua E Vabbè Mi hanno rovinato Tutto E Allora Pifo Flash Oh ma mi piace In continuazione Di Veloce Sarega Mi Lo Oh ma la donna santa la donna santa la donna santa la donna santa ok ok vabbè che ce l'ho fatta oh secondo qualificato dai in questo video mi è andato manuccio sono stato solo eliminato in due partite stumble su chair fai gol a me non piace tanto il calcio prima mi piaceva però ci sono volute per giocare oh madonna mia oh madonna mia c'è un gol a mio murchotto oh madonna questo è proprio ma bravi ma bravi oh cavolo andate andate l'idea di vincere in tanti figli ma dai si 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 vanno via ma dai ma dai ma stai oh no ma che stai a fare ma dai tu sei anche come ti dice sei anche recuperare che cavolo è impossibile secondo me che facci blu effettivamente sto facciando senti blu basta no 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 non mi piace non mi piace sono molto bravo che mi fa fare tutto il mio amico no 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 bravi valeria come guardate tre blu bravi 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 ma per te ce l'ho mandato qua perché ce l'ho mandato qua oh oh mandati un attacco per favore oh madonna mia madonna mia no 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 vai ma che cavolo l'ho fatto qua l'ho eliminato nel ultimo dunque va bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale youtube attivate la campanina ding dong ok è arrivata la ricompensa mi ha dato l'animazione di conno scusate animazioni e guardate tutto 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 ciao 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 ciao